Le mascherine per affrontare la fase 2. In molte parti d'Italia si annunciano ordinanze sull'obbligo di dispositivi di protezione individuale affinché proteggano contro la diffusione del Covid-19 anche nella futura fase di ripresa delle attività. In Sicilia l'orientamento ha spiegato l'assessore regionale della salute Ruggero Razza quello di rendere obbligatorio l'uso di queste protezioni solo nelle aree commerciali nel solco delle misure restrittive che abbiamo già intrapreso e che ci hanno permesso di contenere l'epidemia nel territorio seguendo dunque criteri scientifici e non un mero sensazionalismo. Per metterla in pratica servirà ovviamente una grande quantità di materiale superiore a quella che abbiamo già in dotazione per il personale sanitario ma risolveremo di cerrazza anche questa criticità attraverso le produzioni regionali che si stanno avviando. Ma sull'uso delle mascherine l'Organizzazione Mondiale della Sanità nelle linee guida per i paesi frena. Devono essere usate nell'ambito di altre misure, da sole non fermano la pandemia e l'uso di massa di questi dispositivi da parte delle persone può aggravarne la carenza. Un altro ostacolo come indicava Razza arriva dalla quantità di dispositivi in dotazione ma non solo. Se si dovesse obbligare l'uso delle mascherine anche se solo in alcuni luoghi bisognerebbe limitare le speculazioni sui prezzi e le difficoltà di approvvigionamento. Un'indagine condotta ad Altro Consumo fotografa l'attuale situazione. Nel 43% delle farmacie contattate in otto città italiane le mascherine non sono disponibili soprattutto in Sicilia. L'indagine spiega Altro Consumo ha confermato però l'esperienza di molti di noi e cioè che la fornitura di questi prodotti è ancora ben lontana dall'essere capillare e la situazione sul territorio non è omogenea. Ci sono città come Padova nelle quali le abbiamo trovate sempre e città come Roma e Palermo nelle quali sono risultate difficili da reperire.